Importante operazione della sezione antidroga della squadra mobile di Trieste. Dopo una lunga indagine svolta in collaborazione con uomini del commissariato di Muggia, è stato possibile scoprire un sudalizio costituito da cittadini sudamericani, dei quali facevano parte anche alcuni triestini, dedito al traffico internazionale di droga e armi. Ha preso quindi in via un'operazione investigativa che si è sviluppata fuori i confini della nostra regione in provincia di Vicenza. È stato così appurato che un cittadino ecuadoregno, Miguel Cruz Ceballos Choez, residente in Spagna, che lavora come montatore di stand fieristici, avrebbe trasportato ingenti quantitativi di cocaina e marijuana e, almeno in un episodio, quattro fucili. A capo dell'organizzazione malavitosa, un sudamericano, Suarez Cabezas, assieme a una donna, Karen Maria Baez L'Antigua, che raccoglieva il denaro provento di spaccio, quindi partiva per la Spagna, dove acquistava marijuana e cocaina, che poi spediva a Vicenza attraverso il corriere Ceballos. Gli agenti triestini, quindi, in collaborazione con i colleghi della squadra mobile del capoluogo Veneto, hanno proceduto all'arresto dell'Equadoregno in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere per violazione della legge sugli stupefacenti. Questa misura cautelare segue altri provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di altri indagati, aggiungendosi agli arresti in flagranza di reato e ad alcuni fermi avvenuti tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017, che hanno coinvolto 13 persone con diversi gradi di responsabilità, ma tutte legate al traffico di droga. Nel corso dell'operazione sono stati complessivamente sequestrati oltre 3 kg di cocaina e le presse necessarie per il suo riconfezionamento, 9 kg circa di marijuana, bilancini di precisione, schede e telefoni cellulari, nonché denaro contante, oltre ad una pistola semiautomatica, 4 fucili e numerose munizioni.